direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto prima di procedere con l'estrazione vi ricordo l'incredibile iniziativa pasqua cento per cento convalidando una giocata con superstar valida per il concorso del 20 aprile troverete sulla ricevuta di gioco i codici alfanumerici per partecipare alla ricca estrazione di ben 100 premi garantiti da 100 mila euro ciascuno ed ora andiamo a scoprire quale cifra raggiunto il jackpot oggi martedì 26 marzo 125 milioni 530 mila 942 euro il più alto d'europa e 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via l'estrazione del concorso numero 37 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire se i numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 45 siamo al secondo numero con super analotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 84 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 14 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 27 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincide il quinto numero estratto è il numero 47 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 52 dopo i sei numeri che segnalo jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme ai cinque numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 12 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione il numero jolly 45 84 14 27 47 52 numero jolly il numero 12 e ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite e supera una lotta fino a 100 volte premia anche lo 0 e l'1 le sfere stanno ruotando nell'urna pronti il numero superstar di questa sera è il numero 84 ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 37 in ordine crescente 14 27 45 47 52 84 numero jolly 12 superstar 84 l'estrazione di oggi martedì 26 marzo termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo fra poco per scoprire se il jackpot di oltre 125 milioni 500 mila euro il più alto d'europa è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratti i numeri vincenti del concorso numero 37 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del super analotto assegna 394 mila 76 vincite vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 125 milioni 500 mila euro il più alto d'europa sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di super analotto non è stato realizzato il jackpot cresce ancora per arrivare a 126 milioni 600 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 10 e vincono 19 mila 829 euro ciascuno i 4 sono 571 e vincono 353 euro ciascuno i 3 sono 20 mila 553 e vincono 29 euro ciascuno i 2 sono 340 mila 949 e vincono 5 euro ciascuno e in questo concorso sono state assegnate ben 14 mila 8 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuno scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 2 e vincono 35366 euro ciascuno i 3 stella sono 112 e vincono 2958 euro ciascuno 100 euro vanne 1648 2 stella 10 euro e 9861 1 stella e 5 euro e 20 mila 370 e 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi super una lotto vi dà appuntamento a giovedì 28 marzo e giocheremo per un jackpot di 126 milioni e 600 mila euro arrivederci